Incitamento all'odio razziale e religioso in rete. A Roma individuati organizzatori e militanti di un gruppo neonazista con radici in Italia e ramificazioni in Europa. In dodici hanno l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, oltre che nella capitale in corso perquisizioni a Milano, Latina, Cosenza e Sassari. Il comandante del ROS, generale Pasquale Angelo Santo. Le attività investigative hanno evidenziato l'esistenza e l'operatività di un gruppo neonazista denominato Ordineario Romano, dedito alla pubblicazione sui social network di scritti e video dal contenuto razzista, antisemita e negazionista della Shoah, registrate plurime condotte di propaganda e istigazioni a commettere azioni violente all'indirizzo di persone di origine ebraica ed extracomunitari.